dai occhio lì occhio un milione ok stop un milione di visual per questo grazie anex buongiorno a tutti i ragazzi benvenuti in questo nuovo video sono circondato da me da questi super atleti che penso che ormai non serve più presentarveli e oggi voglio farli fare il ninja warrior al parco di cantù esattamente tra poco vi presenterò il circuito e tra poco partiamo il circuito di ninja warrior consiste partiremo da qua praticamente dovremmo fare tutto il circuito attorno a tutte le sbarre ci fai vedere che il giro al punto di partenza praticamente partiremo da qua a testa in giù così dovremmo fare una camminata bella lunga con le gambe appoggiate fino in fondo una volta arrivati qua dobbiamo salire sopra la sbarra fare il giro poi possiamo appoggiare i piedi per terra a per terra non bisogna proprio appoggiare i mali da qua io devo salire sulla sbarra ti arrampichi sopra a modo tuo sali sulla sbarra una volta arrivato qua ci mettiamo in questa posizione e camminiamo in questo in questo modo molto attentamente esatto da qui passiamo sulla spalliera qua arriva il pezzo tosto perché dobbiamo passare sotto con tutto il nostro corpo senza toccare per terra in mezzo sotto sotto ma dove sotto io porto per primo senza toccare capito una volta qua passiamo ovviamente alla sbarra dobbiamo fare il salto a prendere la sbarra ad ogni trazione dobbiamo fare trazione sbarra trazione sbarra trazione sbarra una volta fatto le trazioni da qua senza toccare per terra passiamo su questa sbarra passiamo di qua passiamo sotto in mezzo meno male sotto stiamo preoccupando da qui passaggio così così da qua si passa sulla sbarra alta senza toccare per terra se la tosta capito sì 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 no piuttosto ci appoggiamo sul palo possiamo fare il metodo se il pompiere per finire ritorniamo qua per finire facciamo ritorno nel punto di partenza con i diade saltellando ma col dipa anche completo quindi dire è esplosivo ragazzi avete capito il circuito meno secondo te tempo approssimativo allora il tempo è di finirlo siccome la prima volta non te lo posso dire facciamo che il primo che lo fa in breve tempo possibile il primo che concluderà il circuito il minor tempo possibile sarà proclamato il vincitore ninja king del canto esatto chi è che vuole partire per prima abbiamo il primo ospite il secondo sarai tu e io sarò terzo coraggioso siamo carichi ragazzi ecco il nostro primo campione che parte sei carico alex in posizione 321 vai 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 cammina cammina non toccare per terra non toccare per terra una cammina cammina adesso sali sopra le parallele su 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 dai alex non ti arrendere sulla sbarra al volo avvicinati avvicinati bravo dai 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 siediti bene in mezzo alle gambe bravo bravo piano cammina piano qualche è facile cadere una davanti all'altra e non ci riesco anche così va bene dai cammina cammina non cadere dai 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 striscia striscia occhio ai gioielli dai dai quindi adesso la sbarra qua al volo ok non toccare per terra adesso arriva il pezzo più difficile sotto agganciati bene si bravo agganciati bene al ragno bravissimo passa 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 bravo 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 sali 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 è andato bene dai che se l'hai sbarra qua respira respira adesso si passa qua sei a un minuto adesso dai 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 salto al volo trazione passa la prossima uno vai la prossima due prossima slancio lo fa niente chippalo tre passa stanno andando bene vai vai quattro cinque dai 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 un minuto e 30 sbarra più piccola esatto non toccare per terra ok passa sotto dai 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 passa passa respira recupera respira bene mi sposto bene passa 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 mi hai investito non cadere dai 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 come la si è da qua e dopo passi qua esatto adesso qua bravo adesso sbarra alta e ritorni alle parallele buono dai 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 adesso mi metto ancora piano e da qua i dips ritorno con i dips il gadget ci sta divertendo è bellissimo ragazzi guarda questo zio da qua dips vai uno due dai occhio lì cosa è successo fai cambi il normale dips saltati un milione ok stop un milione di visual per questo grazie Annex oh cambiare in dip è impossibile da qua qua in dip io ho preso un colpo poteva capitare peggio quello che mi spaventava di più e la sbarra quando ho saltato quanto ho fatto? due e cinquantasei siamo sfidanti a concludere questo super circuito Danny Scallà sei carico? spero dai 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 siamo un chilometro in posizione tre due uno let's go dai cammina 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 fai il ragnetto guardate che tecnica chiusa del scivolamento guardate sali sopra appoggia piano sulla sbarra ti siedi in mezzo alle gambe ok cammina spiderman tosto vero non cadere non cadere è facile tosto sembra semplice in verità ok va bene va bene arrampicati sopra ok gioielli adesso arriva uno dei pezzi più difficili soprattutto per lui che è alto vediamo se ce la fa che sono curioso passa sotto bravissimo per me heure attenzioni bravo bravo vai bene le florislave la florislave bravissimo sbarra qua da qui i salti carico dai 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 oscillazione forte su al volo bravo bravo trazione vai pull up e cambio 1 e 2 veloce su 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 2 3 fa niente per le esecuzioni ragazzi non è un problema tira tira vai 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 tira tira ok passa la sbarra dai 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 passa alla prossima non toccare per terra oh così così passa sulla spalliera su 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 passa in mezzo in mezzo alla cosa respira respira prendi fiato prendi fiato diciamo che il pezzo difficile secondo me l'ha fatto si è il pezzo del lancio più trazione esatto dai dai infilati infilati bravissimo tosto vedo c'è anch'io c'è un pezzo che ho spavito un po' per entrare eccolo qua dalla sbarra ti appoggi sopra vai respira 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 bello tosto con te siamo a 2 minuti e 30 veloce vai battilo addirittura sotto come on 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 dai 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 sulla sbarra veloce dai 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 piano vai vai sulle parallele su 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 non pensare al tempo dai dips jump dips jump dips jump ok ritorna ritorna vai 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 uno dai dai su su non cadere tre cambio piano qua fermate ferma di cambio dai concludilo concludilo uno due e tre ottimo quant'è? tre minuti e sedici quant'è? prego al top ragazzi al top per ora abbiamo primo alex con due minuti e cinquanta sei se non sbaglio tre minuti e sedici e per finire parte il gaggione e viviamo un po' mi sto tutto a posto allora avevo i bicipiti che stavano esplodendo le trazioni ti hanno tolto un sacco di energia tosto sei pronto gaggino? tre due uno via via guarda che tecnica va che corsa tecnica tipo da climber che male alle gambe non allenandole mai tecnica vai gaggino vai 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 oh tecnica una tecnica buona ma dai 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 avanti così non te lo dico il tempo questo riesce a farlo solo lui cioè è impossibile esatto il ragnetto è impossibile perdere equilibrio vai vai passa dentro passa sotto vai gaggino passa sotto un piccolo ragnetto buono più che piccolo è enorme due non spaventare non dirmelo gaggine un ragno su la spalla vai vai gaggine su un ragno sei tu un ragno io cosa oh yeah oh oh buono eeeh tosto vai vai eh tosto eh addio gaggino addio tosto ragazzi hai ragione tosto addio guarda ci stanno togliendo i guanti addio vai 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 eh bello hai saltato la sbarra dai su 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 però la fate meglio però la fate meglio buono pulite maledetti ok ok ora in mezzo vai passa in mezzo gaggino cioè guardate i guanti mi sono tolti anche a me si stavano togliendo si i guanti per fare a piacente quando ci lanciamo con con il robo passa in mezzo dai dai gaggino su 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 ti levano i guanti è vero anche la maschera ah sono incastrato andrò a sistemare no no posto posto dai 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 su tempo quanto lo dico quattro minuti non te lo dico il tempo devi dare il massimo si tesoro devi farlo sotto ah devi dare il massimo ribaltati ribaltati a farlo sotto dai ah ah sta belando sul suo circuito ah 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 vai 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 su gaggino su di andare gaggino di andare gaggino mi mancano solo le dip dai 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 su uno due tre quattro occhio cinque sei sette buono ok secondo te quanto hai fatto secondo te quanto hai fatto secondo me è 2,48 2,48 cinquanta no tutta una leggenda e le leggende fanno 2,12 2,12 grande gagg 2,12 come ti senti? perché non ti sei riposato mi stava cadendo la mascherina mi si stavano togliendo i guanti bello distruttivo non me l'aspettavo perché scriverlo a casa era tutto facile trazioni di paipollo quel salto lì e tutte le trazioni dopo che dire ragazzi per oggi è tutto se il video vi è piaciuto lasciate il tasto like attivate la campanella troverete i contatti di queste bestie sotto il video nel link in descrizione e noi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ragazzi ciao 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 ciao